Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno a parlare di overboard. In quest'ultimo periodo infatti ho provato il modello CX 911 della Colorway. Si tratta di un overboard con autobilanciamento e ruote da 6,5 pollici. Ha dimensioni già considerevoli vista la lunghezza di circa 60 cm e un peso di 8 kg. È già da un po' di giorni che lo sto testando e lo trovo un ottimo prodotto. Fin da subito l'ho trovato abbastanza semplice da usare rispetto anche ad altri che ho già testato. Il bilanciamento automatico funziona bene, si riesce piuttosto facilmente a mantenere l'equilibrio e è anche molto reattivo ai comandi. Le ruote grosse aiutano sicuramente ad avere una buona stabilità e sono riuscito così ad affrontare anche tratti un po' dissestati con alcuni buchi e piccoli sassi sulla strada. L'overboard è ben fatto, la struttura è in plastica robusta con alcune parti in alluminio. Questo che vedete è il modello nero ma su Amazon si possono scegliere tra tante diverse colorazioni. ha queste due comode pedane in gomma che permettono di avere una buona presa con il piede. Al centro ci sono due serie di led, quelli a destra mostrano il livello della batteria, mentre quelli a sinistra indicano rispettivamente se la batteria è in buono stato funzionante, se l'overboard è in modalità di equilibrio, quindi questa luce si accende quando saliamo sul mezzo, mentre l'ultima rossa lampeggia nel caso in cui ci sia qualche problema. Sulla parte frontale ci sono due fari, mentre su quella posteriore ci sono due luci per i freni. Qui sotto è presente il tasto di accensione e vicino la presa per la ricarica. La batteria ha un'ottima durata e permette di percorrere anche più di 10 km con una sola ricarica. Molto bella anche la presenza di questa serie di luci sulle ruote che variano e lampeggiano mentre si sta muovendo l'overboard. Il funzionamento è molto semplice, ci sono poche cose da sapere e ci vuole solo pratica per imparare a guidarlo. Per salire bisogna appoggiare prima un piede e poi l'altro, diciamo con decisione, rapidamente, senza tante esitazioni, altrimenti l'overboard inizierà a ruotare. Le ruote lavorano in modo indipendente avendo ciascuna un motore da 350 watt e inclinando il piano si produce, diciamo, il movimento della ruota. Quindi per andare in avanti sarà sufficiente inclinare il mezzo in avanti da entrambo i lati e lo si può fare spostando il peso del corpo appunto verso in avanti. Per andare indietro, al contrario, si dovrà inclinare l'overboard all'indietro spostando il peso leggermente all'indietro. Per ruotare sarà infine necessario inclinare una sola delle ruote oppure entrambe nel verso opposto però per poter fare una rotazione più rapida e in uno spazio limitato. Chiaramente se non avete mai utilizzato un prodotto di questo tipo ci vorrà un po' di pratica per poterlo maneggiare bene e soprattutto in sicurezza. Quindi il mio consiglio è quello magari di iniziare anche in casa a provarlo se avete magari un corridoio o comunque un po' di spazio così da potervi appoggiare con le mani alle pareti per darvi un po' di sicurezza iniziale e imparare a mantenere bene l'equilibrio e ad eseguire qualche piccola manovra, qualche curva. Potete anche iniziare direttamente all'aperto o magari facendovi aiutare da qualcuno che all'inizio vi può tenere per mano. Presa poi un po' di confidenza con i comandi potete trovare un posto più ampio come un piazzale, un parcheggio o dei giardini in modo da poter aumentare anche la velocità e incominciare a eseguire manovre un po' più complesse. È possibile poi collegare via bluetooth l'overboard allo smartphone e utilizzare l'applicazione scaricabile. Questa vi permette di vedere e registrare tutti i dati mentre lo state utilizzando quindi mostra ad esempio velocità, distanza oppure il percorso sulla mappa. Si può poi anche impostare il livello di guida quindi passare da un livello da principiante poi a medio esperto aumentando anche così la velocità massima in base ai vostri miglioramenti nella guida.